La morte nera è tua. Ma allora, ci sono modi e modi per provare a risolvere la crisi, a ridare impulso all'economia, a ridare pulso all'industria. È bizzarro il modo propugnato da un gruppo molto molto consistente, perché mi sembra che siano quasi 30.000, almeno 25.000 firme, di una sorta di petizione arrivata a We the People, che è un sito che raccoglie petizioni pubbliche varato dal governo degli Stati Uniti nel 2011, dall'amministrazione Obama. Ha raccolto, fra le altre, una petizione firmata da 25.000 persone perché il governo degli Stati Uniti si impegni a costruire la morte nera, quella di Star Wars. Cioè, pa, 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 pa. Allora, una stazione spaziale fatta come la morte nera. Ma dove la metti? Nello spazio. Ma nello spazio è grande, cioè. Beh, appunto, ci sta, è grande anche la morte nera, ma nello spazio ci sta. Ma tu dici, in quella zona lì c'è spazio. C'è spazio. Una satellite artificiale, una stazione fatta a modi morte nera, in modo tale che desse impulso all'economia. Ma come la morte nera? Siccome si è già consolidata questa richiesta, qualche tempo fa un gruppo di studenti ingegneri inglesi ha calcolato quanti soldi ci vogliono solo in acciaio. Il costo dell'acciaio che ci vuole per costruirla è 850 milioni di miliardi di dollari. Aspetta un attimo, questo è al netto del trasporto e della manodopera? Pura materia prima. Allora, 850 milioni di miliardi di dollari e mi sembra circa, non so quante migliaia di anni, una roba tipo 800 mila anni ai ritmi attuali. Il tutto vale non so quante migliaia di volte il PIL mondiale attuale, credo 13 mila volte il PIL attuale di adesso. Insomma hanno buttato giù due numeri spannometrici per dire ci avevamo pensato. Però oltre che al problema degli Gedi che prima o poi arrivano a farla fuori c'è anche il problema dei costi. E poi, per citare Clerks, c'è anche il problema di subappalti. Naturalmente, poi lì bisogna stare molto attenti, sai come va, poi metti gli appalti italiani e sono già un problema, ma vabbè. Allora, che cosa è successo? L'esito finale è che il governo, questa era la petizione, diceva, concentrando le nostre risorse difensive in una piattaforma spaziale e in un sistema di attacco in stile morte nera, il governo potrà creare nuovi posti di lavoro nel settore della costruzione, ingegneria ed esplorazione spaziale, oltre a rafforzare la difesa nazionale. Tante erano le firme che il governo ha risposto e ha articolato la risposta in tre punti. È stato un no. Il no che ci dimostra quanto Obama stia dalla parte della forza e non dal lato oscuro, anche se alcuni complotti si dicono sta dissimulando. Sì, certo. Perché secondo alcuni è in combutta con il senatore Palpatine del Kentucky. Allora, i tre punti della risposta sono, la costruzione della morte nera è stata stimata intorno agli 850 milioni di miliardi di dollari, stiamo lavorando per ridurre il deficit, non per espanderlo. Poi un altro no è, l'amministrazione americana non supporta la distruzione dei pianeti. E beh, la morte nera è quello come... Ah, ma voglio dire, potremmo fare anche una morte nera più... È un distruttore dei pianeti. E poi, infine, giustamente, perché dovremmo spendere i soldi dei contribuenti per una Death Star con un difetto fondamentale che può essere sfruttato da una semplice navicella spaziale guidata da un solo uomo? Beh, però loro simpatici. Sì, sì, simpatici.